Sembra proprio che in occasione del C7 il presidente USA, Donald Trump, dormirà a taormina come tutti i leader del mondo. A renderlo noto è stato il sindaco Erigio Giardina, smentendo le voci trapelate nei giorni scorsi. Ovviamente il primo cittadino non dirà dove alloggerà Trump per motivi di sicurezza. Il sindaco ha dichiarato che debba terminare il clima di informazione non precisa che circola sull'evento. Il timore del primo cittadino è che tutto questo possa screditare quanto di buono si sta realizzando per fare in modo che l'appuntamento internazionale possa far fare bella figura non soltanto a taormina ma a tutta la Sicilia. Manco ormai un mese al G7, l'appuntamento dei grandi della terra in programma a taormina il 26-27 maggio. 30 giorni ancora densi di preparativi soprattutto sul fronte della sicurezza e per quanto riguarda i lavori di restyling della cittadina. L'elipista è stata già realizzata ex novo e si stanno asfaltando diverse strade mentre si lavora anche di notte e nei festivi. Per quanto riguarda il collegamento tra l'elipista e l'hotel San Domenico, è stato aperto in questi giorni un cantiere per ripristinare il manto stradale ma non sarà possibile allargare la via. Sabato scorso il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, ha effettuato un sopralluogo nei cantieri, assicurando che per l'appuntamento di fine maggio la città sarà perfettamente in grado di accogliere tutte le delegazioni. La rappresentante del governo ha visitato anche i luoghi dove si sta registrando il maggiore sforzo organizzativo in vista dell'arrivo dei grandi della terra.